Ciao bambina, quello lì non lo fermi mica E insomma, bello, 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 punta, punta, sono cotti, dai, su, tacci, vai, tacci E la tira bene, la tira bene, ha fatto un bel tiro però, c'è una posizione che non c'era Beh ma siccome sto riprendendo tutto, si vede dopo E' un compito che ci ha scettato da Ellie Chiediti se viene, va dove, va qua Però il regio gioca bene, gioca bene, è una gran bella partita E allora si dico, vada. dai e puntare lì dai vai Tommy scherzo bravi bravi ragazzi bravi bravi bravo 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 bravi bravo 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 Grazie.